Qual è la situazione ad oggi a Chieti? Tra l'altro ricordiamo che la zona rossa ci sarà fino al 28 di febbraio e lei però ha già precisato, lo ha fatto nei giorni scorsi, anzi ha già adottato alcune ulteriori restrizioni per quanto riguarda la città di Chieti fino al 7 marzo. Decisione concertata con tutte le istituzioni dal direttore della ASL al direttore del Siesp al prefetto e alle forze dell'ordine. Questo perché lunedì mattina sulla mia scrivania è arrivato il report della sola giornata di domenica perché ricordiamo che da un paio di settimane il centro di tamponi molecolari, il drive-in del palatricale funziona anche di domenica mattina, è arrivato questo report con ben 89 contagiati in un solo giorno. Il massimo del numero che Chieti avesse mai avuto non solo negli ultimi mesi ma addirittura dall'inizio della pandemia. Ovviamente ho fatto un giro di telefonate convulso nella mattinata e le istituzioni mi hanno consigliato di inasprire la già ordinanza del presidente Marsilio che aveva messo Chieti e la provincia di Chieti in zona rossa. Questo perché nelle giornate di sabato e domenica precedenti complice forse la bella stagione e il bel tempo tantissimi concittadini avevano affollato la villa comunale e le strade del centro storico. Ho quindi dovuto prendere una iniziativa a malincuore per l'amore di Dio però necessaria per frenare il contaggio. Insieme con questa decisione ho dovuto ribadire la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche gli asili e gli asili nido anche privati, fino al 7 di marzo. Il 7 e l'8 di marzo faremo un nuovo weekend di screening, cercheremo di aggiustare il tiro per un target più mirato agli studenti, soprattutto delle scuole superiori e medie e dei lavoratori dipendenti. Grazie 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 a tutti